All'Università degli Studi dell'Insubra mi occupo dello studio delle malattie del cavorale, quindi di tutte le malattie che colpiscono non solo i denti e le gengive, ma tutti i tessuti della bocca. Uno dei miei principali filoni di ricerca è la saliva. Quest'anno, durante lo scoppio della pandemia del Covid-19, insieme ad alcuni colleghi ricercatori e ad altri docenti dell'Ateneo, abbiamo contribuito alla lotta contro il virus con la realizzazione di un test rapido della saliva, che permette di effettuare una diagnosi in circa 10 minuti. L'esperienza è stata molto positiva perché siamo riusciti a trasferire questa ricerca con tutti i suoi risvolti tecnologici all'esterno, perché nel giro di breve tempo sarà disponibile un prototipo che verrà testato e messo a disposizione della comunità per contribuire in questa maniera al contenimento dell'infezione.